Che penso? Non penso? Mi ha affascinato, mi ha tolto il pensiero, lo sguardo e la parola. Sono bellissime fotografie, rappresentano tutto il Salento nelle forme moltiplici del Salento, la bellezza del mare, la bellezza dei paesi e dell'entroterra, la bellezza della cultura e la bellezza spontanea dei visi delle persone, delle manualità, del lavoro, dell'impegno delle persone. Sono delle fotografie stupenne che rappresentano in Salento il miglior dei modi e credo che sia la prima grande mostra salentina che guarda le cose concrete alla vita attuale, alla vita di ogni giorno di questa terra. Con pochi elementi gli artisti hanno saputo trovare l'espressione di una storia continua che si perde nei secoli ma che continua nei secoli a venire. Quindi è veramente un fatto di grandissima levatura culturale e di grandissima visione delle cose.